Salve a tutti ragazzi e bentornati su Mitch Tuning e benvenuti in questo nuovo video Questo sarà un video veramente assurdo, epico, non facciamo un video così figo da un sacco di tempo E andremo a rivedere le modifiche alla parte meccanica della macchina E vi faccio vedere così a grandi linee cosa ho davanti Ecco qua, avevo fatto anche una storia su Instagram E in pochissimi veramente sono stati in grado di riconoscere quello che c'era qui dentro Quindi ragazzi se volete essere partecipi al mio canale importantissimo seguitemi su Instagram E avrete modo di interagire con me più spesso Quindi ragazzi io procederei subito con l'unboxing perché sono veramente frenetico Voglio vedere assolutamente cosa c'è qui dentro Cioè lo so già cosa c'è qui dentro però non l'ho mai visto dal vivo Quindi sono veramente frenetico, voglio vederlo subito Intro e cominciamo subito Oh mamma ragazzi Cosa abbiamo qui Wow, fermi tutti, fermi tutti Abbiamo il nuovo intercooler maggiorato per la mitozza Wow Non so cosa dire ragazzi Voglio innanzitutto ringraziare MR Motorsport Per avermi aiutato all'acquisto di questo nuovo componente per la macchina Questo è un intercooler maggiorato per la mito Va bene su qualsiasi mito Vi lascio il link in descrizione per l'acquisto E i riferimenti a MR Motorsport E veramente rapporto qualità prezzo assurdo Wow Allora oltre all'intercooler Vabbè ci hanno mandato degli adesivi Bianco, rosso, nero Sono super efficienti questi ragazzi Veramente penso che acquisterò nuovamente componenti da loro Biglietto da visita Veramente fighissimo E una mascherina Che in questo periodo è utile Ovviamente è lavabile Tanta roba Oltre all'intercooler maggiorato Ci viene fornito un tubo siliconico di TBF Performance Famosissima Sono sicuro che molti di voi la conosceranno Ovviamente è un tubo unico Che potremo tagliare a misura al momento del montaggio Oltre al tubo siliconico Abbiamo le fascette metalliche Con giraviti carciavite piatto Veramente fantastiche Sono veramente fatte benissimo Le adoro già E wow Guardate che bello Guardate che bello È spettacolare ragazzi È spettacolare Cosa serve questo attrezzo? Questo attrezzo è una cosa assurda Per la macchina È un componente veramente utile In quanto cosa avviene qui dentro? Ve lo spiego veramente in parole semplici Entra l'aria calda da una parte L'aria calda che viene aspirata dalla turbina Entra qui dentro Tramite queste serpentine Si raffredda E da quest'altra parte esce E entra nel motore Perché bisogna raffreddare aria? Questo è innanzitutto un intercooler aria-aria Se no ci stanno anche aria liquido Aria acqua insomma Come lo volete voi E si utilizzano per macchine un po' più performanti E per modifiche un po' più sostenute Nel nostro caso non serve Questo è un intercooler aria-aria da 7 litri Virgola qualcosa Non mi ricordo Però insomma È di più rispetto all'intercooler di serie E questo nel mio caso È molto utile Perché probabilmente andrò a fare un upgrade Ancora più avanti Verso gennaio Non lo so Questo è un piccolo spoiler Cambierò forse la turbina Vi sto dicendo troppo ragazzi Comunque sappiate che mi servirà E non sarà un upgrade sbagliato Wow Bene ragazzi Siamo giunti quindi al termine del video Non posso andare oltre Avete visto praticamente tutto quello che ho preso Da MR Motorsport E posso veramente garantirvi Che è un'ufficina azienda Veramente epica E ve la straconsiglio Vi lascio tutti i dettagli qui in descrizione Prossimamente arriverà il montaggio dell'intercooler E anche se non farò per il momento una mappa Quindi probabilmente aumenterà di brutto Il turbo lag della macchina Però appunto sono previste altre modifiche E non mi interessa Il primo possibile voglio montarlo E magari fare una mappetta easy Non lo so forse Vi sto dicendo troppe cose Probabilmente E Penso che lo monterò io Non dovrebbe essere complicato Così complicato Sostituire un intercooler In quanto Questo non ve l'ho detto Ma ha già tutte le staffe Quindi è plug and play Si toglie quello stock Si mette questo Basta smontare il paraurti Forse la maggior parte del tempo Se ne andrà per smontare il paraurti E rimontarlo Sono veramente super contento Non posso veramente esprimere Quello che sto provando in questo momento Mi sento veramente al settimo cielo Anche perché è la prima modifica Meccanica seria Che faccio alla macchina La mia prima macchina poi Quindi Wow Non vedo l'ora di montarlo Potete lasciare un bel mi piace Se il video vi è piaciuto Lasciate un commento Se avete domande o questions La stessa cosa Quindi niente Io vi saluto Seguitemi su Instagram Mitch Tuning Per questo video è tutto Ciao a tutti ragazzi Go Pro Adesso a video Ciao a tutti Ciao a tutti